La Lega scenderà in piazza per contestare la festa del tricolore e il Premier Monti. Presente i dati politici del 2011, aumentano gli iscritti del 35%, pronte nuove sedi in montagna, il movimento guarda già la campagna elettorale. Era in vacanza con il marito in Nepal, la 39enne reggiana Mirna Terenziani, ingegnere ambientale, sarebbe caduta durante un'escursione. Il rientrare la Salma in Italia. Il presidente della reggiana Barilli racconta il passaggio da Mangoni a Lanna, poi il calcio mercato e lo scandalo calcio scommesse, il tutto questa sera alle 21 nello speciale appuntamento sport su Teletricolore. Secondo le previsioni sarà un capodanno baciato dal sole, tranne una pausa con pioggia, anche gennaio si conferma funestato dalla nebbia. La provincia attiva gli sms meteo per informare in tempo reale. I capelletti protagonisti delle tavole per le feste, dagli esperti consigli per cucinarli secondo la vera tradizione reggiana. Venerdì 30 dicembre, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Politica divisa sul 7 gennaio, la Lega si prepara a contestare il Premier Monti e le misure del Governo in occasione della festa per il Tricolore. Ma sentiamo tutti i dettagli da Isabella Trovato. Angela Alessandri, cosa farà la Lega Nord il 7 gennaio? Scende in piazza per manifestare contro il Governo Monti? Noi saremo in piazza sicuramente davanti al Teatro Valli e faremo capire a Monti, come ha dichiarato oggi, visto che non si è ancora reso conto che gli italiani ce l'hanno con lui, faremo capire che a Reggio Emilia invece l'aria è diversa e se è così diversa Reggio sarà diversa anche da altre parti. La Lega Nord non parteciperà alle iniziative istituzionali del 7 gennaio in cui Reggio sarà blindata per l'arrivo del Presidente del Consiglio Mario Monti e anzi sarà dall'altra parte della barricata, dalla parte di chi contesterà l'attuale Governo, così come fanno in Parlamento gli onorevoli del Carroccio che oggi rappresentano l'opposizione. E quanto è stato annunciato in conferenza stampa dai vertici reggiani? L'onorevole Angela Alessandri, il segretario provinciale Gabriele Fossa, Giacomo Giovannini, capogruppo in comune a Reggio e Stefano Tombari, capogruppo Lega Nordi in provincia. Da qui un appello ai cittadini a manifestare al fianco del Carroccio davanti al Teatro Valli. La Lega ha avuto la sua occasione per fare qualcosa al governo. Monti oggi c'è perché la Lega non c'è riuscita insieme a Berlusconi, forse è così? No, non è così. Noi siamo stati aggrediti da una crisi internazionale molto pesante. Noi quando abbiamo potuto fare qualche intervento, proprio mettere a posto i conti, abbiamo sempre cercato di vedere come farlo, di non toccare le pensioni, di non aumentare le tasse. Questo non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo tolto anche l'ICI che era una tasso odiosa perché era quella sulla prima casa, visto che l'84% degli italiani ha la casa di residenza, di proprietà, ci sembrava odiosa e l'abbiamo tolta con molti sacrifici. Lui appena arrivato l'ha reintrodotta, ha aumentato gli estimi, ha aumentato gli indici, per cui raddoppia o triplica per tutti. Intanto, per il 2012, la Lega mira a fortificare la presenza in montagna con la creazione di tre nuove sezioni, mentre su tutto il territorio registra un aumento del 35% degli iscritti dal 2010 ad oggi e il 15% in più di militanti. Il Consolato Generale di Calcutta e la Farnesina si stanno occupando delle formalità per permettere il rimpatrio della salma della 39enne Mirna Terenziani, l'ingegnere ambientale originaria di Reggio, morta durante una vacanza in Nepal. La sfortunata professionista stava trascorrendo le vacanze di fine anno col marito con cui viveva a Torino. Mirna è morta all'ospedale Norvice a Kathmandu. L'incidente era avvenuto in mattinata sul Monte Rasura, al confine con il Tibet. Secondo la polizia, la donna è rimasta ferita durante una caduta mentre stava salendo sulla montagna alta 7.234 metri. Soccorsa con l'elicottero sarebbe deceduta per le ferite troppo gravi. Il referto medico parla di una caduta accidentale ma è stata aperta un'inchiesta sul caso. La terribile notizia è stata comunicata in modo ufficiale ai genitori Remo e Luciana Curti che abitano a Reggio. Ed ora veniamo alla pagina sportiva ma nel suo lato peggiore, quello che si riferisce al calcio scommesse. Ritorna il nome di Mirko Stefani e questa volta pare decisamente coinvolto. Nel giugno scorso quando scoppiò il caso calcio scommesse il nome di Mirko Stefani, allora giocatore della Cremonese, uscì senza particolare clamore e allo stesso modo finì subito per scomparire. Ora invece torna prepotentemente alla ribalta. citato ieri dalla deposizione di Carlo Gervasoni, suo compagno di squadra, fino a gennaio quando venne poi ceduto alla Piacenza. Gervasoni dice testualmente riferendosi alla partita di Coppa Italia tra Monza e Cremonese, persa come da accordi dai Grigiorossi per 3 a 2. Arrivarono 40.000 euro e partecipò alla suddivisione anche Stefani che poi diede parte della somma ricevuta a quelli del Monza. Lo stesso Stefani mi riferì i nomi dei giocatori del Monza coinvolti, Fiuzzi, Alberti e Jacopino. Poi qualche giorno prima di Monza Cremonese di campionato Paoloni mi propose di combinare la partita provocando il pareggio. Ricordo che propose la cosa anche a Stefani. Io e Stefani non accettammo in quanto il risultato non andava bene per la nostra squadra. La partita finì 2 a 2 e Paoloni fece una papera che mi ha insospettito. Queste dunque le parole che incastrano Mirko Stefani ma a Gervasoni ha citato anche Davide Saverino come il primo a contattare Paoloni sempre per pilotare il risultato di quella gara. Una vicenda questa che non dovrebbe coinvolgere la reggiana anche se all'epoca dei fatti, ottobre 2010, Saverino era un giocatore granata. Arresti per droga operati dai carabinieri a Montecchio in manette sono finiti il quarantenne Beniamino De Masi e il ventotenne Vittorio Marotta. Nelle loro abitazioni sono stati trovati 100 grammi tra coca e marijuana e 350 euro. I due che erano incensurati sono già comparsi davanti al giudice e sono stati condannati a un anno e dieci mesi di reclusione e 3.000 euro di multa ma in virtù del fatto di avere patteggiato la pena sono già stati rimessi in libertà. L'anno si concluderà ed inizierà all'insegna del bel tempo anche se farà freddo durante la notte e al mattino con gelate diffuse. Intanto la provincia stringe una collaborazione con il meteorologo Luca Lombroso. Sentiamo. Reggio chiude l'anno baciata dal sole nonostante le gelate attese per la notte di San Silvestro dovute all'abbassamento delle temperature minime sulla nostra provincia non sono previste nevicate e per la pioggia invece bisognerà aspettare il 2 gennaio quando intensi temporali si abbatteranno sul territorio per poi lasciare spazio di nuovo al sole. A farla da padrona sarà la nebbia con banchi improvvisi sparsi e il 2011 si consegna agli archivi meteo come un anno da ricordare per le temperature piuttosto moderate nonostante il periodo invernale e la scarsità di piogge. Passata l'ondata di maltempo che a novembre ha colpito e devastato la Liguria ed il Piemonte. Mobilitando la protezione civile a Reggio per il Po i corsi d'acqua reggiani soffrono una sorta di siccità invernale. Anche in montagna la neve non ha concesso che una spolveratina. Intanto per prevenire un improvviso stravolgimento delle condizioni meteo ed essere pronti ad ogni evenienza la provincia di Reggio ha stretto una collaborazione con il meteorologo Luca Lombroso. Ai funzionari preposti alla manutenzione stradale oltre ai messaggi periodici di informazioni meteo generiche saranno inviati sms personalizzati di preavviso nevicate gelate in appennino o neve in pianura. Come un diario in cui sono state fissate le immagini, le emozioni e le parole che hanno accompagnato nel 2011 le celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Reggio Emilia 150 è un volume di oltre 130 pagine che ripropone quegli incontri che hanno caratterizzato alcuni momenti clou a Reggio come il 7 gennaio, festa del tricolore e giorno ufficiale di apertura delle celebrazioni del 150esimo alla presenza di Giorgio Napolitano. Le oltre 180 fotografie ricordano le cerimonie istituzionali così come gli eventi sportivi, gli spettacoli, i concerti, le mostre, gli eventi e gli appuntamenti dell'intero anno. Il volume può essere acquistato presso IAT, Museo del Tricolore, Palazzo Magnani e alla libreria Bizzocchi al costo di 13 euro. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità ma ci vediamo subito dopo. Siamo pronti a ripartire, prima però come sempre rivediamo i principali fatti del giorno. La Lega scenderà in piazza per contestare la festa del tricolore e il Premier Monti. Presente i dati politici del 2011, aumentano gli iscritti del 35%, pronte nuove sedi in montagna, il movimento guarda già la campagna elettorale. Era in vacanza con il marito in Nepal, la 39enne reggiana Mirna Terenziani, ingegnere ambientale, sarebbe caduta durante un'escursione, il consolato di Calcutta al lavoro per fare rientrare la salma in Italia. Il presidente della reggiana Barilli racconta il passaggio da Mangoni a Lanna, poi il calcio a mercato e lo scandalo calcio a scommesse. Il tutto questa sera alle 21, nello speciale appuntamento sport su Teletricolore. Secondo le previsioni sarà un capodanno baciato dal sole, tranne una pausa con pioggia, anche gennaio si conferma funestato dalla nebbia. La provincia attiva gli sms meteo per informare in tempo reale. I capelletti protagonisti delle tavole per le feste, dagli esperti consigli per cucinarli secondo la vera tradizione reggiana. Un piccolo ma significativo miglioramento del servizio per gli studenti di Castellarano e Roteglia. A partire dal 9 gennaio prossimo sarà istituita infatti una nuova corsa in partenza alle ore 6.40 da Roteglia che arriverà fino alla fermata di Villalunga stazione alle 7.10 per permettere agli studenti di prendere la coincidenza con il treno delle 7.13 e arrivare a Reggio alle 7.43. Il bus poi proseguirà per Salvaterra-Casalgrande per portare i ragazzi delle medie inferiori e per Scandiano per quelli delle superiori. Da sottolineare il fatto che questa corsa per Villalunga potrà essere utile non solo per gli studenti ma per tutti coloro che lavorano in quell'area. Nei giorni scorsi abbiamo parlato dei piatti tradizionali di pesce che vanno per la maggiore a fine anno. Oggi invece è il turno della pasta fatta in casa con i cappelletti veri protagonisti della tavola. Tortelli ma soprattutto i cappelletti sono i protagonisti della tavola Reggiani in occasione delle festività natalizie di Capodanno. Ci sono molte ricette soprattutto per il piccolo e per il bato ripieno ma anche dare la forma a questa pasta così tradizionale è diventata una vera e propria arte come ci spiega Gianna Crema del ristorante Old River di Guastalla. Prima si impasta con ogni chilo di farina 10 uova impastate secondo quanti si vogliono fare i cappelletti e poi si lascia leggermente un'ora un'ora e due la pasta ferma perché si amalgama meglio poi si taglia pezzetti e si tira o con il mattarello o adesso ci sono le macchine sia elettrici che a mano per farlo secondo della necessità secondo di uno se lo sa fare o no e poi si mette il ripieno che si vuole sia per i cappelletti in brodo sia per i tortelli sia che i tortelli si possono poi fare in tante maniere sia con l'erbette sia con la ricotta si possono fare con il cinghiale noi li facciamo con tantissime cose. Per dargli la forma basta prendere il cappelletto aperto ancora dalle due parti del ripieno dove sono stati tagliati poi si uniscono sotto il cappelletto sotto al ripieno si stringono bene che vengono ben saldati perché che non si aprono e il cappelletto è già fatto questi sono i quadrucci queste ho appena finito le pappardelle queste sono le tagliatelle per farle asciutte prima era stato impastato la pasta con la farina le uova poi tirata lasciata asciugare leggermente e un buon natale un felice anno nuovo lo si può augurare anche con una pizza magari fatta proprio a forma di albero di natale con tanti auguri. 300 persone hanno partecipato al tradizionale cenone delle feste nei saloni della casa protetta comunale di Cavriago in via Spromonte c'erano amici e parenti degli anziani non autosufficienti e i rappresentanti delle 24 associazioni di volontariato il menu del cenone è stato preparato con maestria dalle cuoche dai cuochi della cucina centralizzata della casa protetta i quali confezionano più di 500 pasti giornalieri per gli anziani e per i bambini del nido e delle scuole comunali dell'infanzia c'è di nuovo la pubblicità noi ci vediamo dopo il meteo è offerto da tra la centralissima via Kennedy e via Piccardi un angolo di arredamenti sorgente del mobile Migale il tuo negozio di fiducia dove può comprare anche un bambino e queste sono le previsioni del tempo su reggio provincia per domani sabato 31 dicembre sereno poco nuvoloso per l'intera giornata temperature comprese tra i meno 2 e i 7 gradi il meteo è stato offerto da tra la centralissima via Kennedy e via Piccardi un angolo di arredamenti sorgente del mobile sorgente del mobile vi augura buone feste e siamo pronti dopo il meteo per il consueto riepilogo delle principali notizie del giorno la lega scenderà in piazza per contestare la festa del tricolore e il premier Monti presente i dati politici del 2011 aumentano gli iscritti del 35 per cento pronte nuove sedi in montagna il movimento guarda già la campagna elettorale era in vacanza con il marito in nepal la 39 n reggiana mirna terenziani ingegnere ambientale sarebbe caduta durante un'escursione il consolato di calcutta al lavoro per fare rientrare la salma in italia il presidente della reggiana barilli racconta il passaggio da mangoni a lanna poi il calcio mercato e lo scandalo calcio scommesse il tutto questa sera le 21 nello speciale appuntamento sport su tele tricolore secondo le previsioni sarà un capodanno baciato dal sole tranne una pausa con pioggia anche gennaio si conferma funestato dalla nebbia la provincia attiva gli sms meteo per informare in tempo reale i capelletti protagonisti delle tavole per le feste dagli esperti consigli per cucinarli secondo la vera tradizione reggiana e si chiude così anche questa edizione del nostro telegiornale vi ringraziamo per averci seguito vi auguriamo una buona serata arrivederci a presto